Siamo in compagnia di Rocco De Vito Francesco, tecnico federale della FIV, qui per commentare la Barcolana di pochi giorni fa, ma prima di arrivare a commentare la Barcolana parliamo dell'iniziativa, quindi come è nato questo progetto e soprattutto qual è stata la risposta da un punto di vista proprio sociale che avete ricevuto dopo questa esperienza. Sì, noi come associazione Invela con Noi, che ha sede al Marina Sveva, abbiamo contattato la Onlus Orizzonti Futuri che ha praticamente finanziato questo progetto, dopodiché siamo rivolti alla Anfas e alla sua presidente Paola che praticamente ci ha indicato i ragazzi che sono venuti a bordo e hanno fatto parte di questo equipaggio che si è allenato con diverse uscite, con diverse condizioni meteo, partendo appunto dalla nostra base di Marina Sveva nel Golfo di Vasto, per poi arrivare ad un certo punto a iscriversi e a partecipare alla Barcolana di Trieste del 9 ottobre appena passato. Quanto è importante lo sport per il sociale? Assolutamente importantissimo perché i ragazzi hanno avuto veramente un'esperienza di inclusione veramente importante, sono stati assolutamente trattati come persone normalissime a bordo dell'imbarcazione e anche fuori nel contesto poi della regata a Trieste. In futuro che tipo di progetto avete in Serbo? In futuro sicuramente proseguiremo su questa strada perché ha dato delle grandissime soddisfazioni a noi, ai ragazzi, alle famiglie che hanno fatto partecipare questi ragazzi, che sono tornati contentissimi, veramente esaltati da questa esperienza, anche impegnativa perché le condizioni meteo della Barcolana sono state veramente impegnative quest'anno. La federazione ha avuto modo di ascoltarli in questi giorni? La federazione assolutamente è stata partecipe in questo progetto, anzi spinge sempre di più a includere questi ragazzi speciali in questi progetti di inclusione con la vela. Durante l'esperienza quali sono state le condizioni meteorologiche? Le condizioni meteorologiche tipiche di Trieste sono quelle della Bora, che non è mancata. Le previsioni portavano un 20-25 nodi che per noi erano abbastanza tranquilli, erano abituati i ragazzi e invece ne abbiamo avuto fino a 38 di nodi e quindi è stata veramente impegnativa per i ragazzi governare e anche evitare negli incroci scontri che purtroppo ci sono stati da parte di altre epipagine e per fortuna siamo arrivati sani e salvi alla fine di questa bellissima avventura, abbiamo tagliato il traguardo, felicissimi!